Simpatico momento ieri a Tusi Cavales, il talent show di Canale 5, infatti pensate che la simpatica Maria De Filippi avrebbe chiesto a Sabrina Ferilli, ospite fissa della trasmissione, indossi le mutande? Sì, si stava esibendo appunto dei personaggi in una prova quando appunto Maria ha voluto chiedere questa domanda a Sabrina, la quale Sabrina senza scomporsi troppo, no ora sono casi vostri, avrebbe risposto, ovviamente scherzando, ovviamente ponendo inizio o meglio ponendo in essere una simpatica battuta che non è passata inosservata. Anche perché Sabrina ieri sera indossava una gonna e ghiotta occasione è stata per Maria De Filippi nel chiedere a Sabrina, indossi le mutande? Sì, e la risposta poi si è tenuta quella che Pocassi vi ho pronunciato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate e un saluto caro d'Aleandro, il vostro narratore italiano di Youtube Italia.